musica 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 what no vabbè questo io non ci sto credendo bro max rolla mi è bestemmio no no vettina ragazzi ma com'è culo porco due 300 tentativi e non ho visto un cazzo di niente che culo ma finalmente finalmente si appiana un po' la situazione 310 tentativi non vedo una sega odio i pokemon odio i pokemon odio i pokemon odio i pokemon vado a prendere il pacco per rock ragazzi dai andiamo comunque stiamo a 40 punti eh mica cazzi mica cazzi nella bocca di poli no magneto abbiamo 13 abbiamo più attacco per che attacco è speciale proviamo magneto dai questo è abbastanza no non è abbastanza per metà vita shadow ball io madonna madonna se io vedo la madonna qui davanti i miei occhi io mi apro il ventre con un bisturi guarda guarda queste sono le stab che mi da erri grazie erri possibile atturarlo eh si ho capito dai però porco due si ho porco e nemmeno un tick però ma va in culo snorlax di merda fa ne questo molesto terremoto nooo finita porco due pure il brutto colpo eh allora mi sa che si usa la cura da 50 qui basta li play dai cazzo basta tanto fai mosse a caso ma perchè due due critici due critici famose a caso cioè porco due che sfiga come sei omastar come sei rispetto al tuo figlio dalle padre oh no è tutto meglio tutto meglio lui voleva diventare come lui madonna ho sprecato non fu il restore vai in figa ragazzi c'è da evitare blizzard c'è chioma sei stupido sei stupido nooo bro c'è brooo sveglia merda ma è rincoglionito sto robo cazzo è rincoglionito proprio sto robo vecchio cazzo c'è veramente ma sveglia plena bravo leviti iper beam siiii aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa centre state a vedere come l'ho miso fra 3,2,1 Ha water absorb cosa fai mastro water absorb Lo sai anche, ce l'hai anche te Quillfish dog Really bro Bene Ultimo, labias Boom Ma sto veramente preservando un pp Quando ne ho 20 e 5 e 4 Max Elisir Sì, perché tanto muore lo stesso Perché dovrei ragazzi Moriva di poco, non moriva Destra Questo è il mio Pokemon, giusto ragazzi? Mi confermate che questo è il mio Pokemon? Oh Non ci posso Io non posso continuare a vivere così Io non ragazzi non ci verrà veramente 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 non è non è credibile È tutta la live è tutta la live Porcaccio Di merda Rizco grazie per il prime non è possibile Non è possibile Non è Upgrade Non ti dare la screen qua Ma perché Perché mi prendi per il culo così Butta Butta Tos Grazie Axel Grazie con fulore Calmi Oh calmi Di nuovo di nuovo È tutto fino alla fine Oh Campioni Cazzo Campione Flogliano Campione 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 Wow Flogliano c'è Flogliano c'è Ok Ok E ora me lo dite E ora me lo dite cosa si fa Ora me lo dovete proprio dire cosa si fa Lo devo per forza cambiare Ma cosa vuol Cos'è sta stronzata Ho trovato tre leggendari alle ball Dovrebbero stare tutti zitti e tarmi il mio e basta Ragazzi non posso trastare una roba del genere con sei in special defense e otto i speed Prenderò il primo pokemon che mi capita sottomano sperando e Nemmeno arrivare a dare la parcel Allora c'è oltre una 5 va a guardare Charge Sono ammossa Una l'aveva Non ammossa tranne quella Ho sbavato ragazzi da quanto ho goduto La mia vita si è estesa Ecco Crit di Ballet Seed 4 hit No vabbè Sì però dai Dai 4 hit doppio hit di Ballet Seed 4 hit doppio hit di Ballet Seed Sì però ciccio io non posso giocare così Cioè io non posso giocare così Abbiamo air cutter con 22 di speed e la coverage Perché se è buono deve essere sempre scammato Eh ricordatevelo È la regola se è buono lo devono scammare Ma togli sui kun che merda è Mi piace sui kun Non lo posso prendere Sembra organizzato No ragazzi Succede il casino Non lo prendo Non lo prendo Non lo prendo Non lo prendo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti voglio bene Poli, sei il più forte degli Jedi. Se ti becco al Games Week, ti lecco forte i piedi. Poliquids Show, aspettando il board game. Sei il più forte del mondo, Mattia Negri. 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 Il più forte del mondo, Mattia Negri.